Dopo 17 giornate, 14 delle quali sotto la gestione Sannino, il Catania è ancora in cerca di un'identità. La partita col Bologna è l'immagine fedele del campionato sinora disputato, caratterizzato soprattutto dalla mancanza di continuità. Ma il Catania è anche la sua classifica, a meno 5 lunghezze dall'ottavo posto. 65 minuti regalati agli ospiti e 25 giocati alla Garibaldina. Ora, al di là del 2 a 2, se prendiamo in prestito il periodo natalizio, potremmo anche sottolineare che siamo d'accordo col tecnico Sannino. Grande reazione, grande prova d'orgoglio, ragazzi straordinari. Noi dobbiamo essere tutti contenti per quello che ha saputo dare in questi 50 minuti del secondo tempo. Il secondo tempo straordinario, straordinario per la voglia di andare a recuperare una partita, difficilmente una squadra sotto i due gol contro una squadra come il Bologna. Pensa di poter riuscire a capovolgere la situazione. Sannino è un grande motivatore dunque, lo è forse un po' meno in fase di strategia tattica e tecnica, così come abbiamo appurato in occasione della gara col Bologna, dove le sostituzioni sono state suggerite dagli infortuni di Spogli e Monzon. Ma questo non è tempo di critiche, occorre pensare al Livorno e al Mercato, già in fermento. Il Catania ha già puntato un difensore, un centrocampista e un attaccante. I nomi? Per la difesa, ballottaggio tra Portanova e Terzi, con quest'ultimo che al Palermo parte spesso dalla panchina. Per il centrocampo piace Gazzi del Torino ed è il nome più caldo, mentre per l'attacco Pavoletti resta l'obiettivo numero uno. L'attaccante del Sassuolo arriverebbe in comproprietà e la trattativa è già a buon punto.